C'è stato un matrimonio che ha fatto l'Italia, il matrimonio tra Maria Clotilde di Savoia e Napoleone Girolamo Bonaparte, un matrimonio del quale si parla poco, anche perché è una storia poco nota quella della principessa Maria Clotilde. Oggi cercherò di ripercorrere la sua storia, lo faremo con i documenti, leggendo le lettere, cercando di accostarci a questa coppia, una coppia molto strana, composta da una ragazza in odore di santità e un libertino incallito. Sarà una puntata molto interessante per ripercorrere una pagina poco nota, ma sicuramente appassionante del nostro risorgimento. Sigla! Molti sostengono che l'Italia si sia fatta dietro le quinte, in un certo senso, e che sia avvenuta l'unità d'Italia grazie a degli accordi internazionali presi alle spalle degli stessi italiani. Beh, in un certo senso l'affermazione è vera, ma questo vale ancora di più per Maria Clotilde di Savoia, una giovane ragazza, la figlia primogenita di Vittorio Emanuele II, la quale fu costretta a sposarsi contro voglia e sposarsi con un uomo del quale le erano state raccontate le peggio cose. Chi era Maria Clotilde? Beh, era una ragazza buona, giovane, di fortissimo sentimento religioso. Era nata nel 1843 e aveva vissuto la sua infanzia nella famiglia reale, nella sua famiglia a Torino, a Palazzo Reale. Era uscita poco, pochissimo, e la famiglia Savoia aveva una vita molto dimessa, la corte di Torino era molto piccola, lei passava le sue giornate alternando la preghiera e lo studio, ed è commovente in questo senso leggere la giornata tipo della principessa Clotilde. Anzi, a proposito, possiamo subito leggere una pagina del suo diario che tenne quando era giovane, perché ci fa capire un po' la sua giornata tipo, capiamo immediatamente che tipo di ragazza fosse. 1 gennaio 1858, venerdì, levata come al solito, poi preghiere, messa con i miei fratelli alle sette e mezza, e quindi una lettura che appartiene alla venerabile Maria Clotilde, qui stiamo parlando della regina di Sardegna Maria Clotilde di Borbone, Francia, che fu la moglie di Carlo Emanuele IV. Noi abbiamo, Maria Camilla e Dio, preso la risoluzione di fare tutti i giorni durante questo nuovo anno la consacrazione a San Luigi Gonzaga. Abbiamo deciso che se qualcuna di noi morisse durante l'anno, le altre due continuassero la preghiera per lei. Pensate alla determinazione di questa ragazza. Verso le dieci e mezza siamo andati a San Giovanni per la messa solenne, indi verso le dodici e mezza siamo andati dai nostri fratelli cari. Il nostro stesso buon Odone, il fratello, il fratello malato, è venuto. Pranzo da papà, che non sta torpo bene. Questo caro padre ci ha dato a tutti delle bellissime strenne. A me ha regalato un bellissimo cannocchiale da teatro. Dopo siamo rimasti presso i nostri fratelli fino alle quattro, ed eccola che ricevette un bellissimo regalo dallo zio Eugenio. Alle quattro, visita della contessa della Volvera. Siamo andati a cantare il tedeum in San Giovanni, merenda, congedo dai nostri fratelli. Quindi ci siamo occupate tranquillamente. Cena, lezione del signor Desio, tè, preghiere, letto. Vedete che la vita di Maria Clotilde, qui molto giovane, appunto 1858, è una vita segnata dalla preghiera. Una preghiera continua, anche più messe al giorno. È una preghiera che lei sente intimamente, perché ha un animo profondamente devoto. Tra l'altro lo stesso nome Maria Clotilde le viene, come dicevo, da Maria Clotilde di Borbone, Francia, che era la moglie di Carlo Emanuele IV, regina che visse in odore di santità e che aveva un'alta considerazione ancora nell'età di Vittorio Emanuele II, la consideravano un po' una santa di casa, vissuta non troppo tempo addietro. Quindi lo stesso nome le viene da lei e lei si sentiva spiritualmente legata alla vecchia regina di Sardegna. Quindi una ragazza che, poco più che bambina tra l'altro, una ragazzina che in quegli anni medita quasi di farsi suora e che invece riceve la notizia che deve sposare un uomo che non ama e che è completamente all'opposto di lei. Perché questo Napoleone Girolamo, detto Plonplon, già il soprannome è tutto un programma, era un libertino, un uomo che andava dietro a tutte le donne che conosceva, anticlericale, bestemmiatore. Mettete voi qualche cosa e probabilmente Plonplon ce l'aveva. Considerato poco anche dalla stessa famiglia Bonaparte, considerato un Bonaparte di serie B, di poco coraggio, altezzoso, arrivista, ma anche pavido e remissivo. Se si trovava di fronte a qualcuno dal quale invece doveva dei favori, diventava remissivo mentre era borioso nei confronti di coloro che giudicava suoi inferiori. Quindi un personaggio particolarmente squallido, non è una bella persona, almeno per come ci è stata tramandata, ma va anche detto che molti degli aneddoti riguardanti Plonplon e riguardanti Maria Clotilde ci arrivano dai fratelli Goncourt che non avevano proprio una penna leggera con taluni personaggi. In ogni caso si tratta di un matrimonio da fare, ma perché è da fare questo matrimonio? Per capire i motivi dobbiamo ritornare a un episodio celebre del nostro risorgimento, dobbiamo quindi tornare agli accordi di Plombier tra Cavour e Napoleone III, accordi dei quali erano al corrente ben poche persone, il re naturalmente, pochi ministri, Costantino Nigra e pochissimi altri. Questo perché la missione era delicatissima, riuscire a stringere un accordo con Napoleone III che potesse indurre la Francia a intervenire in Italia militarmente contro l'Austria. La storia è nota, è noto anche che gli accordi avvennero in maniera molto rapida nella berlina di Napoleone III dopo appena due ore di chiacchierate con Cavour e poi due ore l'indomani e in due giorni quindi si è definita la situazione. La situazione classica da manuale, da sussidiario scolastico è che il Piemonte per garantire l'arrivo dei francesi in Italia dovrà stuzzicare l'Austria. Allora si studia come fare, magari suscitare dei moti nell'Italia centrale, magari a massa, ecco, massa Carrara, Cavour è già lì con la mente che cerca di capire come fare. Quindi l'Austria dovrà intervenire, dichiarare guerra, non potrà essere il Piemonte, non potrà essere il Piemonte ad aggredire, dovrà essere aggredito e allora la Francia interverrà, interverrà in difesa del Piemonte. In cambio di questo generoso intervento francese e anche per giustificare l'opinione pubblica francese un intervento che costerà migliaia di vite e che costerà anche molto, graverà molto sull'erario francese, il Piemonte cederà Savoia e Nizza. Sulla Savoia praticamente erano tutti d'accordo, Nizza invece è un argomento un po' diverso perché se la Savoia parlava francese, Nizza invece era molto più di cultura italiana, il Nizzardo è molto più vicino al Ligure come lingua, la cultura è molto più vicino a quella italiana e poi non dimentichiamo che molta nobiltà importante del regno di Sardegna viene anche da questi territori di frontiera come la Savoia, come Nizza, la stessa dinastia Savoia, viene dalla Savoia, quindi si tratta di cessioni molto sofferte. Sulla Savoia, dicevo, non ci sono molti dubbi, su Nizza qualche dubbio in più c'è, ma Napoleone fa capire che ma sì, sono questioni da poco, le risolveremo sicuramente, però c'è un punto sul quale non possiamo transigere ed è il matrimonio di Clotilde con il cugino Girolamo Napoleone. Ora, questo matrimonio sembra una cosa un po' strana perché effettivamente, per quale motivo Napoleone III ci teneva così tanto a un matrimonio con i Savoia? Beh, perché in buona parte erano ancora dei parvenuti dal punto di vista delle dinastie nobili europee, erano gli ultimi arrivati, i Savoia invece, come Vittorio Emanuele sottolineava spesso, anche mormorando tra i suoi ministri, additando quel parvenuto di Napoleone III, i Savoia erano la famiglia più antica d'Europa, mentre i buona parte erano dei signori nessuno. E allora bisogna fare questo matrimonio, bisogna farlo per far sì che i Savoia concedano la mano di Clotilde e finalmente i buona parte abbiano una unione con un'importante dinastia reale. Un'unione che doveva anche consacrare Napoleone III nelle diplomazie europee, anche perché no, un'unione che serviva per cementare questo accordo, questa alleanza tra Francia e Italia, anche perché nelle dietrologie, ecco, negli accordi informali di Plombier c'è una spartizione vera e propria dell'Italia. E allora questa spartizione come deve avvenire? Beh, sostanzialmente i Savoia avranno ceduta, la Savoia inizia, avranno però la Lombardia, avranno i territori dell'Emilia-Romagna, creeranno un regno dell'Alta Italia. Invece la Toscana e le Marche potranno essere inglobati in un solo territorio che sarà un regno d'Italia centrale. A chi lo diamo? Beh, lo diamo, indovinate un po', proprio a questo plonplon e alla regina Maria Clotilde, ecco perché c'è quest'unione. Così indirettamente la Francia e i Savoia potranno controllare questo regno nascente futuro d'Italia centrale, del quale non si sa nulla, però si è giunti a un accordo di compromesso, non potendo fare l'unità d'Italia completa che spiace ai francesi, i quali comunque devono tutelare il Papa che è un ottimo bacino di voti per i cattolici francesi, che quindi sostengono Napoleone III anche per questo. E allora bisogna creare questo Stato dell'Italia centrale e che sarà uno Stato fantoccio. Del Sud nessuno ne parla. L'idea di unire l'Italia anche a Sud all'età degli accordi di Plombier, beh, è fantapolitica. Invece si parla di questo accordo di spartizione dell'Italia e allora ecco che avviene il possibile matrimonio, già ma bisogna avere l'autorizzazione di Clotilde. L'autorizzazione di Clotilde deve avvenire e deve dire lei il sì, però lei come sappiamo ha un timore enorme, esagerato di questo sposo che le viene proposto. E allora si ritira in preghiera alla reggia di Valcasotto in provincia di Cuneo e passa l'estate a Valcasotto e inizia a pregare, c'è proprio il suo diario, si ritira lei con la sua dama di fiducia, la contessa di Villa Marina. Sono a Valcasotto nella tranquillità di questa bellissima reggia nelle montagne, che era un convento in passato, quindi proprio nello spirito di Clotilde, e lei è lì che ragiona, che medita e alla fine si convince che il suo è un matrimonio che sa da fare per fare l'Italia. È davvero il matrimonio che sa da fare. Un matrimonio forzato sì, però lei si sforzerà di santificarlo. Quindi un sacrificio per l'Italia, per anche probabilmente per salvare l'anima nella sua concezione del suo futuro marito. Leggiamo a proposito una lettera di Maria Clotilde che ho recuperato in archivio di Stato a Torino. Carissima Marchesa, forse già lei si aspetta la notizia che vado a darle, ma desidero che lo sappia da me stessa. Mi marito dunque domenica 30 gennaio qui in Torino col principe Napoleone e cugino germano dell'imperatore di Francia. Forse, cara Marchesa mia, ella si stupirà come io faccia questo matrimonio, ma il Signore lo ha voluto e mi basta. Ci ho pensato, ho pregato e fatto pregare molto in questa intenzione. Finalmente mi sono decisa a farlo e ne sono molto contenta, perché è sempre una cosa molto seria e difficile il doversi decidere. Sono tranquilla molto e veramente contenta ad aver incontrato il voler di Dio su di me. Il Principe è buonissimo e spero che tutto andrà bene. Hanno pubblicato ieri il matrimonio in chiesa a San Giovanni e mi sono dato il piacere di andare a sentire nella tribuna di sopra. Sono molto giovane, è vero, ma spero che il Signore mi aiuterà. Il Principe è buonissimo. Sono molto giovane, è vero, ma spero che il Signore mi aiuterà. Guardiamo queste frasi nel quale Maria Clotilde si dà forza. Il Principe è buonissimo, gliel'hanno detto, lei non l'ha mai vista, lo conoscerà al momento del matrimonio che si celebrerà nella cappella della Sindone a Torino. Però emerge la determinazione di questa ragazza che sa che sta facendo un'impresa importante nella geopolitica e che deve sposare un uomo che non ama. Una ragazza determinata, una ragazza che ha le idee solide, ferme e che forse però non ha idea di che cosa l'aspetta a Parigi. Loro partono tra due ali di folla a Torino che si accalcano per vedere questa coppia che parte e che va e si imbarca a Genova e che poi risale verso Parigi. Ebbene, a Parigi la considerano una specie di montanara. Circolano voci impietose sul suo conto. Voci secondo le quali questa ragazza devotissima, giunta in una corte di scellerati, senza Dio, come spesso appunto veniva dipinta la corte di Napoleone III, di tutti i buonapartisti in generale. Ebbene, questa ragazza avrebbe addirittura asperso la camera da letto di Acqua Santa, salvo poi vedere arrivare improvvisamente il marito, il quale trova questa brocchetta d'acqua, la beve e dice che pessima, che pessima acqua. E lei tutta compiaciuta del fatto che il marito si è benedetto da solo. Beh, ovviamente non possiamo sapere se si tratta di verità, ma probabilmente si tratta di voci di corridoio, anche sapientemente messe in circolo c'è una voce tra l'altro in cui si dice che Maria Clotilde riceveva da Torino delle notizie dalla madre, proprio addirittura le istruzioni su come comportarsi sotto le lenzuola dalla madre, peccato che al momento del matrimonio ecco la madre fosse già morta. Si tratta di voci che sono infondate, però si tratta di voci che circolano e che rendono Maria Clotilde una sorta di alieno in questa corte. Effettivamente lei ci mette del suo, perché gira con degli abiti, non dico trasandati, però sicuramente non così all'altezza della corte imperiale di Parigi, che è la corte d'Europa. Gira spesso con degli abiti che ha rammendato lei stessa, si comporta un po' da suora, ma non di meno da al principe e tre figli. Si tratta di una copia che è strana, sicuramente strana, il principe ha molte amanti, Maria Clotilde lo sa benissimo, però non di meno è affezionata a Plonplon. È un'affezione quasi, possiamo dire, commovente. Se litigano è unanime il ricordo dei contemporanei sul fatto che se magari c'era un po' di maretta tra i due, ecco Maria Clotilde era sempre la prima che cercava di risolvere la cosa, addirittura stava presso al principe cercando di sembrare sempre più affettuosa, quasi in maniera forse un po' esagerata. Però vedete come Maria Clotilde, che passava dall'essere desiderosa di diventare una suora, diventa una buona moglie. È una persona però di una levatura morale tale che alla fine anche le voci nella corte di Parigi devono affievolirsi, devono sicuramente lasciare il passo alla verità e la verità è che Maria Clotilde è l'angelo della famiglia imperiale. Si vedrà bene tutto questo quando crollerà l'impero napoleonico. Infatti l'impero napoleonico di Napoleone III crollerà dopo la battaglia di Sedan e ci sarà un fuggifuggi generale e Clotilde sarà l'ultima a lasciare Parigi. A tal proposito c'è un'altra lettura che voglio farvi molto bella, che proprio rivela questo episodio commovente e che eleva Clotilde dal rango di una semplice principessa al rango di una vera e propria diplomatica, oltre che di una donna estremamente tenace e caparbia. Bene, il brano che andiamo a leggere è tratto da questo volume di Valentino Brosi o due principesse su Maria Clotilde e Maria Letizia e ha una storia particolare. Infatti è una lettera che fu consegnata a Vittorio Emanuele nell'agosto 1870 al termine di un'udienza con i ministri. C'era Quintino Sella, Vittorio Emanuele la legge, molto serio, ecco poi a un certo punto la passa Quintino Sella e dice voi che amate le cose belle, leggete questa lettera. Poi il principe Umberto ricordandosi di questo aneddoto la regalò a Quintino Sella al quale annotò sotto questa lettera proprio il modo con cui egli lesse questa lettera e come gli fu poi regalata da Re Umberto. La lettera è molto interessante perché è scritta dieci giorni prima dell'abbandono di Parigi da parte di Clotilde, ultima della famiglia imperiale a lasciare Parigi. Carissimo papà mio, l'assicuro che non è il momento per me di partire. Capisco che la sua affezione per me me lo consigli, ma sia convinto caro papà che non ne siamo lì. La mia partenza farebbe il più pessimo e deplorevole effetto, non glielo nascondo. So cosa si dice e che cosa si pensa qui. Non ho la menoma paura, non capisco nemmeno che io possa aver paura di che e perché. Il mio dovere è rimanere qui tanto che lo potrò, dovessi io restarci e morirci. Non si può fuggire davanti al pericolo. Sono francese, non posso abbandonare il mio paese. Quando mi sono maritata, quantunque giovane, sapevo cosa facevo. E se l'ho fatto è perché l'ho voluto. Il bene di mio marito, dei miei ragazzi, del mio paese è che io rimanga qui. L'onore persino del mio nome, l'onore suo, caro papà, se posso così esprimermi. L'onore della mia patria nativa. Tutto questo glielo dico dopo aver riflettuto molto. Lei mi conosce, caro papà. Nulla mi farà mancare al mio dovere. E ci mancherei se partissi in questo momento. Non nego al mondo, alle ricchezze, alla posizione che ho. Non ci ho mai tenuto, caro papà, ma tengo ad adempiere sino alla fine il mio dovere. Quando non potrò più far diverso, partirò. Non farò imprudenze. Stia tranquillo. Sarebbe una sciocchezza da parte mia, lo capisco. I miei bambini sono salvi e questo mi basta. Se parto adesso, forse né mio marito né i miei ragazzi mai potranno rientrare in Francia. Non è un'idea, un'illusione, ma la verità vera. Rifletta tutto questo, caro papà mio. Ci pensi bene. Vedrà che mi darà ragione, ne sono convinta. Lei non partirebbe, i fratelli Maria pure non partirebbero. Non sono una principessa di casa Savoia per niente. Si ricorda che cosa si dice dei principi che lasciano il loro paese? Partire, quando il paese è in pericolo e il disonore è onta per sempre. Se parto non abbiamo più da che nasconderci. Nei momenti gravi bisogna avere energia e coraggio. Li ho. Il Signore me li ha dati e me li dà. Mi scusi, caro papà, se forse le parlo troppo liberamente, ma mi è impossibile non dirle ciò che sento, ciò che ho in cuore. Le voglio troppo bene. Lo rispetto troppo per non parlare a cuore aperto. Sia convinto che mamma mi approva. La sua rispettatissima e affezionatissima Maria Clotilde. Ecco, una lettera che aveva ragione, aveva ragione Vittorio Emanuele. Una cosa bella e io mi commuovo leggendola. Tra l'altro una ragazza, ormai donna, che aveva una schiena così dritta da considerare che chi abbandona nel momento del pericolo, beh, riceve onta e disonore. E' qualcosa che probabilmente deve essere divulgato. Infatti io sono veramente appassionato della figura di Maria Clotilde perché è stata ingiustamente dimenticata, messa in ombra da altre figure del periodo, però guardate che che levatura, che personaggio, un personaggio determinato che alla fine ha passato la vita nel tentativo di conciliare in santità un periodo, il risorgimento, nel quale c'erano attacchi alla chiesa, attacchi alle istituzioni, al culto che erano ferocissimi e lei è riuscita a mitigare il tutto, tra l'altro riuscendo anche a conciliare la sua religiosità con quella assente nel marito, riuscendo a combinare le cose e a evitare di litigare perfino nel momento del battesimo dove ci si divideva anche su queste cose, ma lei era sempre una persona conciliante e alla fine pregò, pregò per il marito, va detto che Plon Plon ebbe poi una vita personale abbastanza travagliata, cercò inutilmente di essere riconosciuto come capo della famiglia buona parte, si separarono, ma si separarono nella misura in cui Maria Clotilde si chiuse nella sua preghiera a Moncalieri, nel castello di Moncalieri, dove era riconosciuta unanimemente come una santa, la santa di Moncalieri, per le opere pie che mise in atto e per la sua forte devozione. Alla fine implorò, implorò affinché il marito, morto appunto in disgrazia, potesse essere sepolto, a Superga con gli altri Savoia, dove a tutt'oggi è sepolto. Una coppia che si voleva bene nonostante le differenze e nonostante le grandi tragedie della loro età. Maria Clotilde è sicuramente il personaggio forse più bello di tutta quest'epoca per il suo grande carisma. E anche ritornata in Italia, lei si dimostrò sempre come una figura di pacificazione, di mediazione con la Chiesa, scrisse più volte ai papi Pio IX e Leone XIII, cercando di mediare con la famiglia, cercando anche di mediare per i suoi fratelli. Non dimentichiamo che, ad esempio, Amedeo voleva sposare direttamente sua figlia Maria Letizia, c'erano piccoli problemi legati alla parentela, però fu Maria Clotilde a cercare di mediare anche questa cosa, cercando di mediare con i pontefici perché si arrivasse a un compromesso tra lo Stato italiano e la Chiesa. Il tutto nel suo romitaggio di Moncalieri, dove lei si spense nel 1911. Bene, abbiamo finito anche questa puntata dedicata a Maria Clotilde. Io vi ringrazio di aver seguito questa puntata fino alla fine, vedete un personaggio che a me piace molto e spero di averlo raccontato con la dovizia dei particolari, cercando anche di entrare un po' nell'intimo di questa figura dimenticata, ma da non dimenticare. Ci rivediamo a una prossima puntata di 800. C'era nefiei! C'era nefiei!